Nel video di oggi andremo a fare un approfondimento sulle mappe forma, ovvero andremo a capire come selezionare solo alcune regioni oppure una singola regione e mostrare solo quelle di nostro interesse sul visual che esporremo sul nostro report, oppure come scendere in dettaglio e visualizzare ad esempio le province che vogliamo andare ad esporre sul nostro visual, o ancora più in dettaglio con i comuni. Ebbene sì, si può arrivare fino a un dettaglio massimo dei comuni. Allora, per chi non sapesse che cosa sono le mappe forma, in alto, insieme al video, in alto a destra trovate il link al video iniziale che vi dà un'anteprima di come funziona questo strumento e come farà apparire il tasto nel caso non lo aveste, che appunto è qui sulla destra. Andiamo a fare subito un esempio, qui vediamo che abbiamo le regioni con l'Italia. Adesso vado di qua, vado su impostazioni mappe e vado su regioni, vedete che qui ho appunto tutti i paesi del mondo che sono stati mappati. Sotto mappa personalizzata e qui appunto posso andare a dettagliare la mappa come io voglio. Solo che quando facciamo clic su sfoglia, che cosa fa? Ci dice di cercare un JSON, che adesso io li ho già preparati e a breve vedremo come si creano i topo.json e questo tipo di estensione. E se adesso io prendo ad esempio questo qui che ho creato, vedete che ho fatto un dettaglio praticamente sul Triveneto. Quindi ho il Veneto, ho il Trentino, ho la Lombardia e ho l'Emilia-Romagna. Quindi ho dettagliato il mio visual in modo che si concentri solo su queste regioni. Se invece adesso lo tolgo, riprendo mappa personalizzata e mi prendo l'altro con i comuni praticamente. Vedete che io ho preso la provincia di Belluno e ho selezionato tutti i comuni della provincia di Belluno. Vedete quanti sono. Poi per poter andare a mappare queste informazioni vediamo che appunto qui abbiamo visualizza chiave del tipo di mappa. Quindi quando andremo poi a costruire la nostra base dei dati, dobbiamo essere certi di avere un campo con i nomi che sono contenuti all'interno di questa colonna. Quindi questi saranno i nomi che lui riuscirà a riconoscere per valorizzare poi le quantità all'interno dei singoli comuni. Quindi anche per le regioni o per le province, se avete dei dubbi, consultate sempre la mappa e visualizzate bene il nome che dovete andare a mappare. Se avete un nome differente, questo nome che vedete qui è modificabile. Come si fa a modificare il nome? Dopo andiamo a vedere come creare il JSON. Quindi andremo nel JSON che andremo a creare, ad esempio andiamo sulle regioni, facciamo clic destro e apriamo col notepad. Qui vediamo che ci sono tutte le coordinate che indicano tutti i punti per delimitare le regioni, i confini che abbiamo scelto. Se andiamo in fondo a questo JSON, andiamo giù 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 giù, ecco che troviamo i nomi che sono esposti. Quindi ad esempio vedete che qui per Trentino Alto Adige, ho fatto un po' di zoom, che cosa mettono? Mettono praticamente Trentino tratto alto spazio Adige barra sud Tirol. Infatti se andiamo e torniamo di qua e riprendiamo la mappa forma, mi dice appunto, dobbiamo selezionarla, mi dice appunto che per avere quell'informazione mappata nel modo corretto dobbiamo appunto scriverla in quel modo. Quindi andiamo qua, vedete che è scritto in questo modo, con la U con il doppio accento. Ora potrebbe essere scomodo, a me non piace questa cosa, lo voglio modificare, perfetto. Allora vengo semplicemente qua, elimino praticamente il testo che non mi interessa, lascio solo Trentino Trattino Alto Adige, salvo il mio JSON, torno indietro, adesso la riseleziono, vado a ricaricarla perché ovviamente la devo andare ad aggiornare, quindi prendiamo ancora un altro paese e poi torniamo su mappa personalizzata perché altrimenti non ci fa selezionare il JSON. Riprendiamo le regioni, se andiamo a vedere la mappa ecco che Trentino adesso è scritto esattamente come l'ho modificato, quindi questo è il modo per andare a modificare eventualmente questi nomi. Ok, capita sta cosa, come facciamo a creare questi JSON? Dobbiamo andare a scaricarci una libreria perché nella libreria ci sono già tutte quelle coordinate che vedevate poco fa all'interno del block notice, già mappate in automatico e c'è qualcuno che ha fatto un lavoro veramente esemplare mappando anche i singoli comuni. Quindi se andiamo di qua, ecco qua il sito, su GitHub c'è un progetto aperto fatto da Guglielmo, appartemente che l'ha aggiornato, vediamo che qui se andiamo sul bottoncino verde, ok, in descrizione trovate il link per poter arrivare a questa pagina, facciamo code e qui giù trovate download zip. Nell'eventualità che nel tempo questo progetto scompaia oppure cambi di link, eccetera, in descrizione per gli abbonati potete anche scaricare direttamente lo zip dal link sotto al mio video. Comunque da qui basterà fare download zip. Nel momento in cui avete fatto questa cosa qua, vi arriverà giù appunto questo zip che adesso io l'ho rinominato, lo scompattate e dentro troverete tutti questi file. Vedete che qui ci sono i topo JSON, che sono quelli che ci interessano. Quello che ci interessa particolarmente sono le regioni, le province e i comuni, che sono questi tre file. Gli altri sono altri modi di vedere le cose, ma diciamo che i tre principali che ci interessano sono questi. Perfetto, fatta sta cosa, che cosa facciamo? Dobbiamo andare a definire cosa vogliamo vedere all'interno del nostro JSON, perché quel JSON ha dentro tutte le regioni, piuttosto che tutte le province, piuttosto che tutti i comuni. Allora andiamo su questo sito, mapshaper.org. Questo qui spero non cambi perché ci serve questo sito per andare a selezionare i blocchi che ci interessano e poi creare appunto il JSON finale dettagliato di solo il perimetro che ci interessa. Quindi vedete che qui ci dice seleziona il file, quindi qui potrei dirgli semplicemente, guarda, tirami dentro le regioni, ok, lo sposto, e quale dico importa. A questo punto compare la cartina. Se io vado sulla destra, che c'è una freccettina, facciamo Select Future, andiamo qui, selezioniamo e dico, perfetto, io voglio il Veneto, voglio l'Emilia Romagna, vedete che poi in alto a sinistra mi dice anche i nomi con cui si chiamano, voglio le Marche, voglio il Lazio e voglio l'Umbria. Perfetto, adesso gli dico, prendi solo questi, faccio Keep e lui ha preso solo queste informazioni qua. Adesso se io voglio andare a esportare solo questo perimetro in modo da scartare tutte le altre regioni, andrò in alto a destra e farò semplicemente Export. Qui mi dice in che formato lo vuoi salvare, il formato che interessa a noi in Power BI è il topo JSON, quindi semplicemente facciamo Export e lui ce l'ha scaricato. Eccolo qua. Quindi se io adesso lo prendo, lo prendo e lo metto appunto nella mia folder, quindi andiamo giù di un livello, me lo metto direttamente qua, adesso facciamo Hold e mettiamo quello nuovo, ok, questo qui è quello nuovo che ho caricato, torniamo in Power BI, vediamo appunto che se selezioniamo il nostro visual, andiamo qui, facciamo un'altra regione, poi riprendiamo mappe personalizzate, prendiamo quello nuovo che ho fatto, ecco che ho solo le regioni che sono andato a creare. Da qui, sempre dal sito, possiamo appunto anche dire, perfetto, no, guarda, prendimi quello delle province, ad esempio, lo trasciniamo dentro, gli diciamo Import e ecco che mi vede le province, quindi anche qui, sempre con la selezione, posso andare a selezionare le singole province che mi interessano e così anche con i comuni, quindi se trascino dentro i comuni e faccio poi Import, vedete che posso andare veramente giù con il mouse, posso anche fare zoom con l'ortellina, con il clic sinistro mi posso spostare e con un singolo clic, quando vado a cliccare sulla Select Future, posso andare a selezionare appunto i comuni. Questa cosa qui è veramente, veramente molto, molto bella. Se poi abbiamo bisogno di capire bene come funziona la regione, vedete adesso io ho portato dentro più file JSON, ho portato dentro quello delle regioni, quello delle province e quello dei comuni. Se vengo qua io gli dico, perfetto, guarda, questi qua sono i tre che ho messo dentro, fammi vedere le province e fammi vedere anche le regioni. Adesso con i comuni magari si fa un po' fatica, quindi lo togliamo, facciamo X e facciamo sulle province, dovrebbe farmele vedere, regioni, province. Ah, eccole qua. Vedete che io vedo comunque le regioni che sono contornate, ok, queste sono quelle che ho selezionato prima, e all'interno vedo appunto i miei comuni, così questo mi può aiutare. Ma lo stesso se ho le province e devo scendere nei comuni, posso anche qui andare a selezionare, adesso ho tolto l'altro file, posso andare a selezionare i comuni, magari adesso lo reimportiamo, si prendiamo i comuni, facciamo import, e poi rendiamo visibili, togliamo le regioni ad esempio, e rendiamo appunto visibili i comuni, che si vedono di un verdolino, adesso qua probabilmente non lo vedete bene, ma comunque questo vi aiuta per andare a delimitare meglio le cose che volete andare a selezionare. In ogni caso, quando passate sopra con la selezione al singolo comune, regione, provincia, quello che è, sulla sinistra vedete che comunque vi dà il nome di che provincia è, di che regione è, e quindi questo già vi aiuta a capire cosa state andando a selezionare. Bene, direi che anche con questa lezione è tutto, se è stato il vostro gradimento lasciate un bel pollizioni su al video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, se invece vorrete sostenermi in modo incisivo, magari pensate a stipulare un abbonamento premendo il tasto abbonati che è sotto al video, così potrete accedere a tutti i servizi che offre il mio canale, ci sono tantissimi video riservati alle abbonate che sono veramente molto interessanti e ve li consiglio, oltre al download delle risorse che vedete all'interno dei miei video, oppure se volete sostenermi in altro modo, in descrizione trovate altri sistemi per aiutarmi, tra i quali ce ne sono un paio di interessanti, che ad esempio se volete navigare in modo sicuro quando andate in internet, c'è il ref per arrivare al sito di CyberGhost, che è la stessa VPN che utilizzo io quando devo navigare in internet in modalità sicura, oppure subito dopo trovate un altro link che vi porta a un sito per l'acquisto di licenze software, ad esempio dovete acquistare Windows, dovete acquistare Antivirus, dovete acquistare Office, è un sito che va benissimo, un sito sicuro che vi dà licenze vere, e la cosa bella è che archivia nel vostro account tutte le licenze, quindi se per caso perdete la chiave basta rientrare nel sito col vostro account e ritrovate tutte le vostre licenze che avete acquistato. Ok direi che ho detto veramente tutto, vi ringrazio molto per avermi seguito fino a qui, ci vediamo al prossimo video, a presto, ciao!